L'amore Immaginati il manicomio con pazienti che corrono, infermieri che sbattono le porte, grida, rumori ecco, immagina una scena di questo genere e pensa, potrà mai nascere l'amore in un luogo del genere? Ho scattato questa foto nel 2015 Luigina e Mario erano due pazienti che si erano fidanzati all'interno del manicomio di Voghera Dopo la legge 180 furono spostati in una comunità chiamata Comunità Ospiti uno spazio dove i pazienti autosufficienti potessero vivere e svolgere le regolari mansioni quotidiane Quella che state vedendo è ciò che rimane della loro stanza Qua passavano insieme una buona parte della giornata Il loro amore colminò negli anni 90 quando decisero di sposarsi sfidando tutti i pregiudizi un amore vero di quegli sinceri che neppure la morte è stata in grado di distruggere perché quando Mario si ammalò e morì anche Luigina poco dopo lo raggiunse nell'altilà guardare oltre gli schemi è questo quello che ci ha insegnato Luigina e Mario perché l'amore può nascere ovunque può nascere in un corridoio di manicomio fra i pazienti che gridano i medici che sbattono le porte la gente che corre può nascere ovunque, anche là ed è proprio per questo grande amore che certi dolori si riescono a superare e questo è quello che ci ha insegnato Luigina e Mario il loro amore è riuscito in un qualche modo a mettere in secondo piano la drammatica realtà del manicomio perché la vera rivoluzione è proprio trovare quell'amore capace di curare ogni dolore grazie Luigina grazie a Mario grazie a voi due per questa meravigliosa storia d'amore grazie a tutti